Mi chiamo Edoardo Fontana e lavoro nel campo del design della grafica pubblicitaria dei libri. Mi ricordo quando da bambino, siccome non ero capace di disegnare per fare un gatto, che è un po' una mia ossessione, l'ho ritagliato da un giornale di mia madre, ho ritagliato un gatto da un giornale di mia madre, soltanto che più che un gatto sembrava un aeroplano forse. Grazie per la visione!